Ed eccoci qui, siamo tornati in onda estate con il socio di sempre Luca Telese, tu, tu, sei sempre tu, sei sempre tu, tu e io, io e tu. E la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein e non avrebbe potuto esserci giornata migliore per averla qui con noi perché avete sentito nel Tg di La Sette dal direttore di Comentana, insomma i sondaggi tra gli elettori del Partito Democratico premiano per ora la segreteria Schlein, meno contento sembrerebbe Vincenzo De Luca e vedremo come e perché, insomma oggi ha fatto un po' di faville, faville anche nel centrodestra, è saltato l'incontro tra Matteo Salvini e Marine Le Pen per una serie di scricchioli all'interno della maggioranza sulle alleanze in sedi europee e a proposito di Le Pen andremo a Parigi con Marc Lazare, insomma ne abbiamo tante stasera, rimanete lì, arriviamo subito. E buonasera, bentornati a Inonda, l'informazione diretta della Sette, io e umilmente la sfavillante Marianna Aprile, la nostra capodelegazione, stiamo per entrare in un'estate rovente, ci saremo sempre, tutti i giorni, quindi saremo la vostra compagnia, appena tornate dal mare noi siamo lì. Questa sera c'è con noi anche Elie Schlein e se c'è una prova che d'estate si fanno le grandi manovre che determinano il gioco dell'inverno, è una giornata come questa in cui accade di tutto sul governo, sui migranti, sul mess che è ancora sospeso, ma anche per un attacco di cui vi abbiamo parlato, quello che il governatore De Luca ha lanciato proprio alla nuova leadership del Partito Democratico. Però prima di tutto questo noi dobbiamo fare... Diamo i numeri. I numeri, diamo i numeri perché sono arrivati i numeri. SVG, possiamo vedere il... Vediamo il cartello 2 così anche capiamo quanta differenza, quanta distanza c'è se c'è tra appunto gli attacchi interni e il gradimento degli elettori, dove lo vediamo noi il cartello 1 è in onda? Sì, eccolo qua. Allora, SVG, secondo lei il PD da quando è guidato da Elie Schlein è migliorato, non è migliorato o è peggiorato? Ho peggiorato il 36% tra tutti, ma il dato che qui forse ci serve per analizzare insomma tutte le forze in campo è quel 64%, no? Il 64% di chi ha risposto ha risposto che è migliorato e sono... insomma, sono tanti. Cioè, la sintesi è che piace agli elettori del PD, non piace alla destra, non la preoccupa questo. No, non piace a alcuni pezzi grossi del PD, insomma. Ma qui stiamo parlando di elettori, nel popolo della destra c'è un bassissimo gradimento, più alto nel PD. Sarà un lavoro lungo quello di ricostruzione di una credibilità e di un'identità forte per il Partito Democratico. Noi abbiamo iniziato da poco, abbiamo messo al centro i bisogni fondamentali delle persone, il diritto alla casa, il diritto alla salute, la questione del lavoro di cui si torna a parlare anche in questi giorni grazie a una proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo, ma certamente non basta neanche quello se non contrastiamo la precarietà. Così come abbiamo rimesso al centro la questione dell'emergenza climatica e di come affrontarla, di come spendere i fondi del PNRR per cogliere un'occasione di cambiamento dell'Italia, perché di questo stiamo parlando ed è questa l'opportunità storica che il governo di Giorgia Meloni rischia di far perdere al nostro paese. E poi l'autonomia differenziata, ecco l'estate del PD sarà un'estate di militanza sui bisogni delle persone per cercare di ricostruire una connessione con quelli che vorremmo rappresentare, che molto spesso sono quelli che fanno più fatica e che sono quelli che purtroppo alle tornate elettorali che abbiamo visto recentemente rinunciano addirittura al diritto di voto perché non si presentano a votare. Allora lì credo che c'è molto lavoro da fare, non si fa in tre mesi, non si fa con uno schiocco di dita e lo voglio dire subito, l'ho sempre detto, non lo fa una persona da sola. È il motivo per cui ci stiamo mobilitando con tutto il partito in tutta Italia su queste importanti battaglie. Vediamo con quale bagaglio inizierà quest'estate militante. Abbiamo preparato un piccolo sunto di questi 126 giorni della sua segreteria e poi le chiedo una cosa. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Non vogliamo più vedere capi bastone e cacicchi vari. Lei oggi è al governo, ci sono io all'opposizione. L'hanno chiamato lavoro, dovrebbero chiamarlo decreto ricattabilità e precarietà. Vengo da mesi complicati, mi prenderò anch'io qualche giorno per riposarmi. È una sconfitta netta, da soli non si vince. Siamo stati sempre chiari e lineari sul pieno supporto al popolo ucraino. Il cambiamento non è un pranzo di gala. Il governo consideri e approvi la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo. Mettetevi comodi perché siamo qui per restare. Quello che vi proponiamo è un'estate militante, proponendo soluzioni concrete. Il segretario ha detto che c'è molto lavoro da fare, non lo farà da sola, lo farà molto in piazza, insomma, riporterete i corpi del PD nelle piazze. Ma le chiedo, cos'è che è andato sto? In questi 126 giorni una cosa che se tornasse indietro non rifarebbe? Guardi, abbiamo iniziato da poco. Dateci anche il tempo di sbagliare e sicuramente succede e succederà. Ma è successo su qualcosa? Devo dire che fino a qui abbiamo avuto un lungo avvio. Non è mai facile in nessuna organizzazione politica fare partire gli assetti interni. Ma devo dire che c'è una squadra solida. Domani saremo a Ventotene con tutta la segreteria, anche perché, e li saluto e li ringrazio, si aprirà il primo circolo del PD su quell'isola. Siamo lì per un motivo ben preciso, cioè far partire un percorso che ci porti a costruire una visione del futuro dell'Unione Europea e dell'Italia, che sia anche di risposta a questa mancanza di visione della destra e alle scelte sbagliate che ci stanno isolando in Europa. L'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, quando anche quelli che Giorgia Meloni riteneva i suoi alleati, Ungheria e Polonia, le hanno voltato le spalle. Lo abbiamo visto anche oggi nelle fratture tra Tajani e Salvini sull'alleanza o meno con le penne. Quindi, ecco, noi dall'altra parte abbiamo invece la volontà di mettere al centro della discussione, a partire da Ventotene, qual è l'Europa che serve ai bisogni quotidiani delle persone sui nostri territori. Bene, però vogliamo anche farle vedere quel messaggio di De Luca. Era molto posato, molto studiato, anche durissimo. Quindi vediamolo e poi le chiedo una cosa proprio su De Luca. Il tempo delle finzioni e dell'ipocresia è scaduto. Per quanto riguarda i risultati elettorali, è un disastro dopo l'altro. Per quanto riguarda i sondaggi, nonostante che siano stati gonfiati per alcuni mesi, sono quello che sono. È demenziale un metodo per il quale si elegge un segretario da parte di quelli che non fanno parte del partito e magari non votano neanche per quel partito. Quando vedo delle autentiche nullità politiche che addirittura vanno negli organismi nazionali, mi colpisce questo fatto. Quando poi questo problema del terzo mandato viene sollevato a gente che ha tre, quattro, cinque, sette mandati, l'onorevole Schlein ha tre mandati, se li ha già concessi. H.C. canta e littera, ma direbbe qualcuno. Ma quali sono i tre mandati? Da segretaria, no, ne ho letta. Al Parlamento europeo, uno. Beh, in Regione e al Parlamento. Contava, li ha elencati subito dopo. Cretino, però sentiamola. Intanto lei ha già deciso di non candidarlo. Guardi, intanto mi sembra che la migliore risposta a qualche critica interna che a volte viene, viene anche da quel, invece, consenso nell'elettorato del PD che noi dobbiamo allargare perché l'elettorato di oggi non basta, ma che è il segno che si percepisce da fuori che c'è un tentativo di cambiamento. Il cambiamento non piace a tutti. E io, di conseguenza, che sono stata votata per cambiarlo il PD, evidentemente non andrò mai a genio a tutti. Alle polemiche personali non rispondo. Resto sulla politica. Sulla politica, devo dire, noi abbiamo fatto scelte che nessun segretario o segretaria fa a cuor leggero. Abbiamo commissariato il partito a Caserta e abbiamo commissariato, di conseguenza, anche il partito in Campania. Ma voglio dire, durante il Congresso sono emerse delle irregolarità gravi, limitatamente ad alcune zone. Lo voglio segnalare e rimarcare perché stiamo parlando di una votazione con una partecipazione straordinaria di più di un milione di persone. Ma dove ci sono state delle gravi irregolarità è nostro dovere intervenire. Ogni dirigente del Partito Democratico deve sentire come sua responsabilità perché ogni dirigente del Partito Democratico davanti ad alcune delle immagini che abbiamo visto tra tesseramenti gonfiati e voto clientelare deve provare ribrezzo e deve sentire la responsabilità di intervenire. Deve provare imbarazzo. Allora, davanti a questo, chi vorrà intervenire sarà in squadra a lavorare insieme a noi per farlo perché dobbiamo trasparenza e dobbiamo rispetto delle regole ai nostri elettori, ai nostri elettrici e anche ai nostri iscritti. Chi invece pensa che vada tutto bene così troverà me sempre dall'altra parte. Mi perdoni però, solo una cosa. Lei può dire, non rispondo alle polemiche personali, in maggio non ha neanche citato De Luca ma era evidente, però i nostri spettatori si chiedono. Quindi il rinnovamento vuol dire che in Campania bisognerebbe cambiare leadership regionale? Guardi, sento molto parlare di questa vicenda del terzo mandato ricordo che non è attualmente prevista dalla legge vorrei che ci concentrassimo come partito e il governo ce ne dà ragione ogni giorno più su quello che intendiamo fare per le cittadine e i cittadini in Campania e nel resto d'Italia. Alla direzione di settimana scorsa ho chiesto tutto l'impegno a tutto il partito in tutti i territori sul diritto alla casa, sul diritto alla salute sul diritto al lavoro che non sia sfruttamente precariato. Sorridevo prima guardando quello che abbiamo dichiarato anche oggi. Guardi, la battaglia sul salario minimo è una battaglia che tocca almeno 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri che sono poveri anche se lavorano e che il governo di Giorgio Meloni non vede. Io vorrei che il Partito Democratico si concentrasse su questo perché delle beghe interne non frega niente a nessuno. Ecco, ha parlato di salario minimo e è una delle pochissime cose forse l'unica finora su cui le opposizioni hanno trovato una qualche forma di convergenza con l'eccezione di Matteo Renzi e di Tagliaviva. Intanto Flash è un problema che Renzi non sia nel gruppo delle opposizioni un danno anche solo d'immagine dell'opposizione unita? È un'occasione mancata. Io penso che abbiamo lavorato nel modo più largo possibile. Tutte le opposizioni, quindi anche il Terzo Polo così come i Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e naturalmente il Partito Democratico ha iniziato la sua legislatura depositando una propria proposta sul salario minimo. Mi ero impegnata durante le primarie a lavorare per provare a costruire una posizione unitaria con le altre opposizioni. Così hanno fatto anche gli altri. Pochino, pochino perché manca Renzi. Però glielo chiedevo perché a proposito di opposizione unita le facciamo vedere il cartello 3 sempre del sondaggio di SVG per il Tgla 7 tra gli elettori del PD il PD in futuro per 64 elettori su 100 si dovrebbe alleare con il Movimento 5 Stelle. E sono il 16% in più? Mariana rispetto a ottobre 2022 cioè subito al dopovoto. Cambiato molto questo sentimento. Forse c'è preoccupazione diceva Mariana prima per i vostri elettori. Non lo so ma mi chiedo se la preoccupazione della segreteria non possa essere che se questo diventa il tratto della segreteria se non rischiate di perdere anche calenda dopo Renzi visto che ha sempre detto. Guarda io credo che proprio questa capacità di mettersi insieme sul merito delle cose che si è dimostrata sulla questione del salario minimo sia di buon auspicio su altri temi e devo dire sui temi il PD ha idee molto chiare non è l'unico quello del salario minimo su cui si possono costruire convergenze importanti pensate alla tutela della sanità pubblica che il governo di Meloni sta tagliando non ci sono altre parole quando nella manovra non mettono risorse sufficienti per la sanità anche solo per stare al passo con l'aumento dell'inflazione. Sulla attuazione del PNRR penso che si possa fare una battaglia insieme così come su altri terreni io credo che sia importante provare a unire queste forze. Ecco questi sono diciamo i punti su cui secondo me noi continueremo a lavorare nella maniera più unitaria possibile senza schemi di alleanze preconfezionati non sono le formule astratte che convincono gli elettori e le elettrici l'abbiamo scoperto amaramente anche nelle ultime sconfitte una cosa però è chiara siccome non abbiamo potuto a settembre vincere le elezioni le abbiamo perse e non le abbiamo perse soltanto noi ecco io credo che tutte le opposizioni che vogliono costruire un'alternativa alla destra debbano sentire questa stessa responsabilità che sento anch'io di costruire un'alternativa a questa destra. Quindi mi racconvince lo Calenda che c'è la possibilità di fare insieme qualcosa con i 5 Stelle? Ma anche alle ultime amministrative a seconda del territorio delle specificità abbiamo saputo costruire su una visione condivisa del futuro delle nostre comunità alleanze che avevano un respiro diverso io punto sicuramente a costruire quelle che servono per affrontare i bisogni concreti delle persone che vi elencavo prima non sono temi nessuno di questi neanche il diritto alla casa che finalmente il Partito Democratico sta rimettendo al centro del dibattito nazionale penso che sia un altro tema su cui discutere tanto con il Movimento 5 Stelle quanto con Sinistre Verdi quanto con il Terzo Polo Un'ultima replica però nel merito della vostra proposta sul salario molti critici non solo del Terzo Polo Economisti Cotrelli hanno fatto un'obiezione che merita se non altro di avere una risposta cioè attenzione Schlein se voi date un unico salario minimo in tutta Italia per ogni tipo di professione alla fine rischiate di avere un effetto drogato al sud dove il costo della vita è più basso e un effetto drogato al contrario al nord dove il costo della vita è più alto in fondo mi sembra un po' un'idea quasi di gabbia salariale ma voglio sapere io sfido chiunque a dire che un salario inferiore ai 9 euro allora sia dignitoso in qualsiasi parte d'Italia no perché stiamo parlando di 3 milioni si dice di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano il governo Meloni non solo non li vede ma vuole addirittura cancellarne l'esistenza perché aver cancellato l'unico strumento per quanto migliorabile di sostegno contro la povertà nega che il 20% di quelli che quello strumento lo percepiscono sono persone che sono povere anche se lavorano allora la nostra proposta che cosa dice prima cosa rafforzare la contrattazione collettiva perché estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore il trattamento economico diciamo la retribuzione complessiva che si prevede nel contratto più rappresentativo di quel settore ok questo vuole anche dire cercare di spazzare via la contrattazione pirata ora accanto a questo però dice nemmeno la contrattazione può scendere sotto una certa soglia che abbiamo individuato in 9 euro all'ora e quindi tiene insieme l'esigenza di rafforzare i contratti e quella di fissare un salario minimo quindi nessuno deve avere meno di 9 euro l'ora esattamente e tra l'altro non si applica solo ai lavoratori dipendenti ma nella proposta che abbiamo fatto con le altre opposizioni si applicherebbe anche a lavoratori e lavoratrici parasubordinati e autonomi la carne sul fuoco è molta ne facciamo mettere un altro po' dalla Presidente del Consiglio in persona vediamo una clip eh sì a una domanda per legge a me colpisce che la Secretaria del Partito Democratico che ci dà lezioni sul tema della lotta all'autoritarismo dica nel momento in cui ci lamentiamo che noi siamo allergici al dissenso se il nuovo corso del PD è andare dritti sulla strada della strategia che li ha portati dritti alla sconfitta elettorale io non sono nessuno per dire cambiate strategie sarcasmo vuol dire continui così e le schline che io mi sento garantita ma trovo fantastico che la destra abbia continuato a fare l'opposizione anche al governo così come continua il vittimismo che è stata la cifra politica di Giorgia Meloni in questi anni io sto ai fatti e sto alla politica da quando questo governo si è insediato hanno approvato un decreto lavoro che estende la precarietà è un fatto perché nel momento in cui estendi i contratti a termine rendi più ricattabili i lavoratrici i lavoratori perché dice che si può contrattare tra le parti ma non è che quelle parti quando si siedono a negoziare un contratto sono alla pari chiariamo questo punto una parte fortunatamente è in condizione di darlo il lavoro l'altra parte ce l'ha bisogno per mangiare però risponda una cosa nel merito oggi sul Corriere della Sera la Meloni dice la Schlein mi critica per le mie amicizie con i regimi le cosiddette democrature dell'est Europa Polonia Ungheria ma lei che ha le sue amicizie in Cuba e soprattutto nel Venezuela ecco ma mi sembra che non sia aggiornata le amicizie che abbiamo in Europa a differenza sua sono quelle della famiglia socialista europea sono quelle di chi si è battuto l'altro giorno mi sono incontrata con il presidente del Portogallo Antonio Costa che è riuscito a risalire lei non è mai stata a Cuba a fare incontri politici no effettivamente non sono mai stata a Cuba ma il punto non è questo il punto è io sono all'opposizione Giorgio Meloni è al governo è andata a Bruxelles l'altro giorno e ha fallito il tentativo di mediazione con Orban e con Moraviechi sull'immigrazione vorrei fare un passo indietro a favore della verità storica nel 2017 io ero al Parlamento europeo a negoziare la riforma di Dublino che è quella che blocca sostanzialmente centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo paese europeo dove mettono piede spesso l'Italia ma anche la Spagna la Grecia dove era la destra quando noi negoziavamo per far rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo ma anche per l'interesse italiano a non essere lasciata sola l'Italia nello sforzo di accoglienza non l'abbiamo mai vista la destra non è mai venuta a negoziare sulla riforma più importante sull'immigrazione che mi sembrava fosse un tema che interessasse alla destra di questo paese perché non è venuta perché non avevano il coraggio di dire ai loro alleati nazionalisti come Orban e come la Polonia che devono anche loro fare la propria parte nella condivisione delle responsabilità sull'accoglienza adesso che stanno al governo cercano di accettare un compromesso molto più a ribasso per l'Italia il patto dell'immigrazione concordato tra i governi mette più responsabilità ai confini con i controlli accelerati alle frontiere anche per i minori e prevede solo solidarietà volontaria che non ha mai funzionato allora cos'è questa storia per cui lei oggi dice invece che criticare i governi polacco e ungherese che non fanno l'interesse europeo e italiane non vogliono solidarietà europea oggi Giorgia Meloni sul Corriere ci spiega che hanno ragione loro ma allora vuol dire che l'interesse nazionale lo stavamo facendo meglio noi nel frattempo gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto al primo semestre dell'anno scorso lo vediamo nel cartello eccolo lì gennaio-giugno 2022 27.000 sbarchi gennaio-giugno 2023 65.000 con un aumento del 140% insomma il tema dell'immigrazione è stato a lungo tema di campagna elettorale ma a naso sarà ancora tema di attualità politica però ritornerei alle parole della Presidente del Consiglio prima per chiederle una delle accuse che vi muove che muove alle opposizioni insomma ovviamente in quanto capo dell'opposizione a lei in particolare è quella di diciamo di accusare il governo di autoritarismo e di diciamo alludere a una tendenza di un certo tipo lei ha paura per qualcosa in particolare? guardi io per i diritti per il tipo di cos'è che la spaventa? la preoccupazione per i provvedimenti di questo governo e per gli effetti che questi provvedimenti stanno già avendo sulla pelle delle persone più fragili ho citato il decreto lavoro fatemi citare il decreto che hanno avuto l'ardire di chiamare Cutro quando invece bisognerebbe avere molto rispetto delle vittime di quel di quel naufragio quello è un decreto il decreto sulle migrazioni che toglie sostanzialmente restringe la possibilità di accesso alla protezione internazionale è un decreto che vuole concentrare maggiormente le persone in centri dove sono numerosi e non si riescono a fare percorsi di inclusione adeguati ma voglio citarne degli altri nel senso abbiamo visto a partire dalla prima manovra la prima cosa che hanno fatto è colpire le pensioni delle donne restringendo opzione donna allora certo che sono preoccupata degli effetti sociali dei provvedimenti sbagliati che questa destra sta prendendo è il motivo per cui noi ci dobbiamo battere ogni giorno per far capire quelli che sono gli effetti e per provare a partire dal Parlamento ma anche nel Paese a mobilitarci contro queste scelte sbagliate voglio chiederle una cosa molto semplice e netta perché ovviamente questo non è un caso personale sul comportamento del ministro Daniele Santanchè un'inchiesta di report ha raccontato di diversi fatti che sono stati messi sotto l'attenzione della magistratura uso forse allegro di casse integrazioni per dipendenti che non sapevano di essere stati posti in questa condizione con la società Visibilia che allora era amministrata dalla Santanchè e poi dal suo fidanzato uso di risorse aziendali un appartamento da 20 mila euro al mese addirittura una bellissima macchina da 5 mila di cilindrata con cui entrava anche dentro il centro di Milano malgrado la zona B allora voglio chiederle lei chiederà le dimissioni della Santanchè e soprattutto crede a queste accuse le ha vagliate le ha lette certamente le abbiamo lette non solo le abbiamo lette ma ne abbiamo aggiunta una in un'interrogazione del Partito Democratico perché abbiamo scoperto che ci sarebbe un debito di una di queste società che facevano capo alla ministra Santanchè la Key Group che avrebbe contratto durante il Covid un debito di 2,7 milioni verso lo Stato debito che non è stato restituito in tempo e che è stato chiesto indietro come fa una ministra della Repubblica a essere in debito di 2,7 milioni con lo Stato ci sono ministri in Italia e in Europa che si sono dimessi per fatti ben meno gravi di quelli che sono stati contestati motivo per cui abbiamo chiesto da subito alla ministra Santanchè di venire a riferire in aula verrà in Senato come sapete il 5 luglio non si capisce perché non viene anche alla Camera ma quindi un restituisce o si dimette? beh adesso intanto vediamo cosa dice in aula noi abbiamo già chiarito che secondo noi davanti a questi fatti se confermati naturalmente le dimissioni sono il minimo sindacale qualcuno ha osservato che non è la prima volta che chiedete le dimissioni di un esponente del governo è già successo con altri ministri le chiedo se non sia una richiesta inflazionata nel senso che se la richiesta di dimissioni non sia un po' di maniera a un certo punto guardi dipende se riteniamo o non riteniamo grave che mentre con il DL lavoro precarizzano la vita delle italiane e degli italiani parliamo di persone guardi soltanto oggi leggevo testimonianze di una cameriera che lavora nel settore alberghiero che diceva in questi anni ho visto triplicare il prezzo delle camere ma io continuo a prendere 8 euro all'ora ecco stiamo parlando di questo stiamo parlando di un'Italia in cui le giovani generazioni hanno paura del futuro perché quando hai questo livello di precarietà che hai un contratto di un mese non sai se ce l'avrai il giorno dopo non vogliono lavorare dicono non vogliono andare a lavorare ma intanto paghiamoli dignitosamente perché se no cosa pensa di questa generazione è vera questa accusa non vogliono rimboccarsi le maniche e lavorare in notte il sabato la domenica ha visto i dati di ricorso al tempo determinato per le giovani generazioni cioè è dilagante la precarietà chi si forma nelle nostre università voglio dire molto spesso è costretto ad una scelta perché i contratti sono così precari e i salari così bassi che non riesci a costruirti un futuro dignitoso allora su questo vorrei che ci confrontassimo perché poi uno può pensare che sia grave o meno grave io penso che sia grave che mentre succede questo ci sia una ministra che pare non pagasse i propri dipendenti e non pagasse i propri fornitori e fischietta quando le viene chiesto di rispondere in aula io non lo so a me sembra grave ecco a proposito di futuro dignitoso oggi il commissario Figliuolo è stato in Emilia Romagna nelle zone colpite dall'alluvione ormai diciamo un paio di mesi fa ha incontrato molti sindaci però oggi sul giornale il titolo era questo vediamo lo strappo scrocconi rossi eccolo qua il riferimento era alle richieste di alcuni sindaci della zona ora al di là diciamo delle strumentalizzazioni politiche che si fanno sui giornali le sembra che l'alluvione sia al centro la ricostruzione post alluvione sia al centro di un calcolo politico perché sono passati due mesi ancora la nomina formale di Figliuolo ancora è lì da venire la nomina arriva con 50 giorni di ritardo peraltro mettendo a rischio anche il ricorso al fondo di solidarietà europeo che aveva tempi stretti peraltro fondo di solidarietà che per ora è riuscito a mandare più soldi ai territori alluvionati 60 milioni di quanto non si è riuscito a fare ad ora il governo di Giorgia Meloni noi dall'inizio abbiamo detto siamo disponibili a dare una mano per individuare le risorse che servono e stiamo parlando di miliardi per la ricostruzione ma hanno ragione i sindaci a dire noi che non è che avevamo scelta nel momento in cui dovevamo intervenire per sistemare al volo una strada anche per fare un passaggio alternativo rispetto a delle frazioni che erano completamente isolate hanno già speso sulla somma urgenza mi pare attorno ai 2 miliardi allora non è che i comuni se le possono inventare quelle risorse non ce le hanno e ho trovato estremamente offensivo anche che un ministro rispondesse loro il governo non è un bancomat quindi si muovono a trovare le risorse che servono da questo punto di vista la nostra opposizione sarà collaborativa per trovare le risorse per dare risposte perché poi i titoli non meritano neanche commento ma quando si leggono queste cose si capisce che non sono andati a incontrare le persone come abbiamo fatto noi che hanno perso tutto due volte persone che avevano già pulito casa comprato gli elettrodomestici dopo il primo evento alluvionale degli inizi di maggio e poi di nuovo sono stati travolti dal secondo però lei metterebbe la mano sul fuoco siccome l'accusa di quel titolo era ci sono dei sindaci l'esempio ad esempio il sindaco Lattuca di Cesena che lei conosce è stato un parlamentare del PD che hanno messo dentro il conto dell'alluvione anche le sale bingo la ristrutturazione del museo della resistenza la copertura di un auditorium lei ci mette le mani sul fuoco su questi amministratori del suo partito? io metto la mano sul fuoco che non si può strumentalizzare politicamente un disastro come è stata l'alluvione e non si può strumentalizzare politicamente come sta facendo la destra dal primo giorno la ricostruzione però le chiedo un giudizio sulla nomina di figliuolo commissario non sono io a dover giudicare figliuolo non ha ancora iniziato formalmente non ha ancora iniziato formalmente quindi a giudicarlo sarà la capacità di dare risposte il più in fretta possibile alle imprese che hanno perso tutto agli agricoltori che hanno lì perso peraltro ci sono zone da alberi da frutto che crescono in 4-5 anni quindi rischiano di avere un bisogno della decisione politica ma non è un mistero quello che noi abbiamo detto dall'inizio al governo è che lì c'è una filiera istituzionale che è abituata a lavorare anche in condizioni di difficoltà non dimentichiamo che ha dovuto ricostruire dopo un terremoto è ricostruito in modo efficace e in tempi certi quindi diciamo noi avremmo preferito che non si scavalcasse quella filiera istituzionale per una centralizzazione come questa dopodiché questa è stata la scelta e i sindaci hanno già dichiarato così come il presidente della regione che collaboreranno nell'interesse delle persone e dei territori colpiti allora noi abbiamo avuto un'esperienza quando lei era qui in studio nel giorno in cui a Planalto andava in onda un tentato colpo di Stato del suo interesse per la politica estera i fenomeni che rimbalzano da un continente all'altro bene in queste ore in cui le torna esplode la Francia allora con Marianna volevamo farle sentire il parere di un grande intellettuale francese Marc Lazare ma poi condividere con lei questa analisi e chiederle che cosa pensa quando vede quei ragazzi dei ghetti che insorgono Marc Lazare in Francia succede una nuova rivolta non delle periferie ma da una parte delle periferie specialmente di giovani molto giovani che si sentono esclusi per ragioni sociale perché sono più posto poveri perché si sentono esterni alla società alla Repubblica si sentono anche discriminati non sono tutti giovani è una parte dei giovani ma non solo in risposta a queste violenze c'è ormai una reazione violenta di gruppi di ultradestra ma anche una polarizzazione politica la cosa sicura è che c'è solo un partito che ne approfitterà sarà il partito di Marine Le Pen il cosiddetto rassemblement nazionale perché perché il governo Macron sarà accusato di non essere stato capace di risolvere questo problema delle periferie non è stato capace di assicurare l'ordine pubblico e perché la sinistra specialmente la sinistra radicale ha avuto una forma di empatia e a volte di sostegno a queste rivolte con l'intervista della nostra Sandra Marzano però le chiedo queste immagini sono state gli eventi di Parigi e non solo di questi giorni sono state anche molto strumentalizzate fuori dalla Francia qualcuno ci ha visto i possibili sviluppi di un'immigrazione incontrollata per esempio una mancata integrazione dei migranti le chiedo intanto un giudizio su questo è possibile dedurre una cosa di questo tipo dal modello francese e dal suo evidente fallimento direi anzitutto bisogna dire che sono immagini che colpiscono e che la prima cosa è che la violenza non è mai a mio avviso giustificabile e questo prescinde completamente da quella che può essere l'analisi come faceva la ZAR delle ragioni di questa protesta anche perché dopo l'uccisione di Nael hanno perso la vita anche altri in particolare ha perso la vita un pompiere di 24 anni mentre interveniva in uno dei roghi da un punto di vista invece dell'analisi ma penso che la ZAR abbia detto cose sensate cioè abbiamo se vogliamo sottrarre il terreno a quella rabbia ricorderete quel film francese La Haine di qualche tempo fa lo abbiamo ricordato in redazione lei ci ascoltava forse è chiaro non vi stavo ascoltando ma il richiamo viene naturalmente a quelle immagini il disagio sociale può sfociare in rabbia questo non giustifica mai la violenza ma se si vuole intervenire in prevenzione sicuramente bisogna ridurre il disagio sociale ridurre l'esclusione sociale ridurre naturalmente quella discriminazione percepita dalle persone che poi protestano e per farlo bisogna fare politiche di riduzione dei divari di inclusione sociale è chiaro che da questo punto di vista evidentemente il modello francese ha mancato sulla parte di inclusione sociale e di integrazione però ecco bisogna che lo teniamo ben presente perché è una sfida importante per tutti gli altri paesi europei se prendiamo quanto ha detto il professor Lazare e lo lo astraiamo e lo estendiamo a tutta l'Europa sembra con tutte le semplificazioni del caso di poter dire che la destra beneficia di eventi di disagi di questo tipo riesce a cavalcarli e la sinistra europea non riesce non solo magari a fornire soluzioni ma neanche a intercettare quello stato d'animo e a interpretarlo in una qualche forma guardi le voglio dare ragione a metà la destra è sicuramente molto efficace nel nominare i problemi che vivono quotidianamente le persone e nel cavalcare le paure che le grandi trasformazioni che stiamo vivendo quella climatica quella demografica i flussi migratori è brava a nominare i problemi ma non a fornire le soluzioni perché a soluzioni guardate questi primi nove mesi di governo stanno a zero cioè se si vogliono davvero aggredire le cause profonde del disagio sociale e della povertà che è aumentata durante la pandemia bisogna fare tutto il contrario di quello che sta facendo Giorgia Meloni che sostanzialmente smonta l'unico strumento di sostegno alla povertà il reddito ecco perfetto non perfetto migliorabile di questo potevamo discutere non del fatto che in Italia secondo Giorgia Meloni sei povero o meno a seconda che tu abbia in famiglia una persona con disabilità una persona minore o una persona che è più grande di 60 anni ma non è quello il criterio però le chiedo lei per essere andata a rendere un saluto con una delegazione alla manifestazione sul reddito organizzata da Conte per avere anche simbolicamente abbracciato Conte ha ricevuto vagonate di critiche adesso per stare alla prima domanda di Marianna se potesse ritornare in quella piazza in quel contesto con tutte quelle persone arrabbiate lei rifarebbe quell'abbraccio? io non ho visto vagonate ma tutt'al più un trenino anzitutto partiamo da lì partiamo da lì sono dirigenti del suo partito ne abbiamo anche dibattuto tra di noi legittimo però come ho spiegato in direzione proprio su questo io credo che se domani mattina mi invitasse Carlo Calenda ad un loro diciamo evento su una un qualsiasi tema sulla sanità pubblica visto che sta facendo proposte sulla sanità pubblica ma io andrei anche lì e lo abbraccia vuol dire ma io sono affettosa con tutti i potenziali alleati ma al di là di questo vuol dire che mi convince sul sindaco d'Italia? no vuol dire che sulla sanità pubblica possiamo lavorare insieme mi sembrava utile su invito andare a portare un saluto sul tema del contrasto alla povertà e del contrasto alla precarietà vuol dire che mi convincono sulla linea che tiene il Movimento 5 Stelle sull'Ucraina? no perché il PD ha la sua linea che è di pieno e convinto supporto all'Ucraina certamente non dismettiamo la prospettiva di un cessate il fuoco ma siamo in disaccordo sul supporto militare allora io penso che se uno è convinto delle sue idee e della sua identità politica non è che deve aver paura andare a dialogare con gli altri altrimenti non saremmo arrivati ad una proposta unitaria sul salario minimo che speriamo che la destra di Giorgia Meloni supporti perché non si spiegherebbe altrimenti se non diciamo con l'idea molto ideologica di voler andare contro i lavoratori poveri però questa sua intenzione costruttiva sui singoli temi potrebbe rischiare di scontrarsi con i guai a casa degli altri ora il sondaggio di SVG per Tg la 7 di oggi dà il Partito Democratico di 4 punti abbondanti avanti rispetto al Movimento 5 Stelle un Movimento 5 Stelle che se dobbiamo stare diciamo alle cronache retroscena vede la leadership di Conte un po' diciamo sotto la lente di ingrandimento mettiamola così a causa insomma degli scarsi risultati elettorali dell'ultimo periodo le chiedo se secondo lei diciamo la propensione del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte a fare accordi con voi potrebbe risentire di questo calo di consensi fondamentalmente non mi conviene molto avvicinarsi a voi se voi guidate l'opposizione guardi io penso che in questo momento noi dobbiamo cercare di creare convergenza dove è possibile nell'interesse del Paese a fronte di un governo di destra che ha le sue divisioni pensate al MES che prima veniva menzionato io non ho mai visto una maggioranza disertare un'aula e lasciare l'opposizione da sola votare sulla ratifica di un trattato internazionale così come vediamo divisioni oggi su un terreno importante che è quello delle alleanze europee allora è chiaro che noi abbiamo un lavoro da fare per costruire un'alternativa alla destra il Partito Democratico ci starà con le sue idee sarà disponibile al dialogo con tutti ma se c'è un'alleanza che mi interessa oggi non è quella tra di noi tra le forze politiche nel ceto politico mi interessa l'alleanza da recuperare con tutte quelle persone che purtroppo sono sopra il 50% ormai che non vanno più a votare guardate le ultime elezioni regionali anche in Molise allora quella è un'altra manifestazione di esclusione sociale di marginalizzazione su questo noi dobbiamo provare a rimettere al centro i bisogni di quelle persone del suo partito per Luigi Castagnetti persona degnissima e anche voglio dire lui veramente un moderato che però ha detto la posizione di Lichlein sulla gravidanza per altri è una posizione che mette in imbarazzo la componente cattolica e che quindi è sbagliata per una leader in un partito come il Partito Democratico che ha diverse identità che si sono fuse allora questo per stare sempre alla domanda di Marianna è una cosa su cui magari lei durante le primarie se potesse tornare indietro prenderebbe una posizione più sfumata? No guardi lei è favorevole ovviamente come sappiamo allora io nella mozione congressuale delle primarie non c'è questo tema non c'è la regolazione della gestazione per altri il Partito Democratico si sta battendo contro un reato universale che è un obrobio giuridico perché il reato universale lo fai tutt'al più su dei reati che sono riconosciuti come tali universalmente non su pratiche che in Italia già non sono legali ma che in altri paesi invece sono regolate quindi voglio dire io dico questo il Partito Democratico ha una posizione chiara che ha portato anche in Parlamento e che ha portato nelle piazze noi vogliamo approvare il matrimonio egualitario vogliamo rafforzare le adozioni perché le adozioni sono un calvario attualmente e vogliamo anche il pieno riconoscimento delle figlie dei figli delle coppie omogenitoriali a prescindere da come sono stati gestati come chiede il regolamento europeo che la destra sta cercando di cassare ecco fino a qui il Partito Democratico è compatto sulla regolazione sulla GPA convivono sensibilità diverse e quindi naturalmente su questo continueremo il confronto non tornerebbe indietro non cambierebbe in una parola quello che ha detto ecco questo mi interessa scusi ma io dovrei cambiare posizioni che ho tenuto coerentemente molto prima di arrivare nel PD e di candidarmi alla segreteria sarebbe una bugia ecco non sono abituata a dire le bugie però e su tanta predatorietà però parte il super spot se no mi uccide lui va bene sul più bello dice eh sì allora oggi in redazione mentre preparavamo la puntata sulla Shine sono arrivate delle foto che ci hanno e anche delle immagini dei video che ci hanno turbato sorpreso bellissime perché una delle mosse che tanti maschi italiani non riescono mai a fare che è la Veronica è un patrimonio dei trucchi calcistici di Ellie Schlein allora Marianna ha fatto una battuta bellissima che la prego ripetere senza vergognarsi non la ripeterò mai ma le chiedo di spiegarci cos'è cos'è la Veronica e se possiamo darne una lettura politica lo so questa al massimo la dovete la dovete abbozzare voi in che consiste è una manovra che è utile a spiazzare l'avversario perché sostanzialmente giri sul pallone e poi prosegui nella corsa quindi diciamo è abbastanza spiazzante ti giri quindi lo confondi con una finta e vai a rete quindi era per De Luca questa o? esatto era questa la lettura politica che speravamo di avere ma non c'è cascata in generale abbiamo promesso che non ci saremmo mai fatti trovare dove ci aspettano ecco perché sicuramente bisogna essere più veloci per essere efficaci nella difesa del diritto alla felicità delle persone perché vorrei che la politica si rappropasse di questo casa, salute, lavoro, clima sono questioni fondamentali per la felicità delle persone un ultimo telegramma sulla Rai la destra in passato disse quando governa il centro-sinistra prendono tutto l'oro non pagate il canone ai loro elettori chiedevano questo lei ora che la Rai viene occupata in qualche modo da nomine che hanno un senso molto intonato nel centro-destra direbbe la stessa cosa ai suoi elettori? guardi io intanto direi che c'è preoccupazione senz'altro per quello che sta accadendo in Rai e perché è molto lontano da quello che pensiamo serva in termini di pluralismo e libertà dell'informazione vorrei chiedere al governo però se mi consente questa domanda che cosa vogliono fare loro sul canone Rai perché non è per niente chiaro ed è un altro dei temi su cui sono estremamente divisi sono anche divisi è appassionante le divisioni le sfumature tra le opposizioni eccetera ma abbiamo un governo che è estremamente diviso e su queste ci possiamo unire la mia volta è estate lei tornerà farà sicuramente una Veronica anche qui noi ci siamo anche domani noi ci siamo anche domani ma dopo di noi va in onda sotto il segno del pericolo con Harrison Ford quando era giovane davvero e non con i trucchi cinematografici grazie a Elislein segretaria del Partito Democratico il giro sulla sedia di Luca Telese e noi ci vediamo domani buona serata tipo una Veronica sulla sedia grazie